ragazze e ragazzi buon inizio settimana e ben tornati su investing guide iniziamo subito in quarta con l'aggiornamento di bitcoin contro dollaro innanzitutto questo grafico mostra sicuramente un andamento di risalita che per i più potrebbe sembrare una ripartenza con qualcosa di positivo è nella realtà stiamo osservando una candela adesso la modifichiamo a candela giornaliera così la vediamo un po meglio e si tratta di ritornare a riprendere un po i picchi precedenti al primi di giugno cosa naturalmente che potrebbe sembrare positiva almeno nel brevissimo termine per quanto riguarda la ripresa della media mobile a 26 periodi ossia questa viola che sta superando ma nella realtà dovete andare a controllare i volumi che qua praticamente sono quasi nulli e quindi attenzione a quello che state vedendo perché potrebbe essere soltanto un movimento dato proprio dalla fase di congestione quindi delle oscillazioni imputabili anche ai bassi volumi perché si muove facilmente il prezzo proprio questo tipo di situazione naturalmente oltre a questo possiamo andare a visualizzare su go charting la situazione per quanto riguarda i valori dei volumi e non dal punto di vista giornaliero che anche importante perché comunque potete come potete osservare i volumi di questa salita settimanale e anzi mettiamo direttamente giornaliera vedete che comunque sono abbastanza bassi e oltretutto in corrispondenza di questo abbiamo un valore del punto di controllo al di sotto del prezzo attuale ossia 29 mila e 4 e con naturalmente una sorta di possibile resistenza all'intorno del 32 mila e 8 che identifica praticamente il punto oltre il quale c'è un gap di prezzo dove non ci sono ordini e quindi questo potrebbe innescare se superati i 32 mila e 8 una possibile ripartenza di salita al di sopra dei 35 barra 36 mila che sarebbe questa successivo valore di resistenza solo se superato questo valore dei 36 mila potremmo dire di ritrovarci di nuovo in una teorica e possibile ripresa del prezzo ma questo purtroppo è invalidato cioè abbiamo delle difficoltà a pensare che possa accadere ma naturalmente è sempre una statistica una possibilità di una possibilità che possa accadere ma è tutto diciamo demonizzato dal sistema degli ordini ossia del volume degli ordini che è talmente basso che inficia questo ragionamento di possibile rialzo se il rialzo ci sarà potrebbe essere soltanto momentaneo quindi vediamo un po se rientrano i volumi gli ordini e quindi possa cambiare anche questa rappresentazione di distribuzione gaussiana della lotta dello sconto tra buy e sell dove comunque il rosso è predominante quindi la dice lunga sul concetto di possibilità di pressione da un punto di vista unico in questo momento sia quella ribassista fatto questo andiamo a visualizzare un po di dati on chain su cryptoquant.com dove in exchange riserva per quanto riguarda bitcoin abbiamo praticamente una tendenza sempre al continuo ribasso infatti vedete che la riserva di tutti gli exchange si trova praticamente a valori minimi e continua praticamente il trend andiamo a vedere naturalmente anche per quanto riguarda la concerne ether stesso discorso sembra quasi che dopo una breve risalita a partire dal 6 di maggio fino a oggi sembra quasi che oggi c'è una ripartenza verso una piccola discesa da parte del diamolo un po ingrandito vedete come si sta muovendo la curva potrebbe di nuovo scendere al di sotto quindi vediamo come si attesterà nei prossimi giorni ritornando su bitcoin vediamo che dell'exchange inflow questo grafico sia praticamente il flusso entrante all'interno degli exchange mostra praticamente un valore praticamente bassissimo di inflow di bitcoin per quanto invece riguarda l'outflow vedete praticamente è analogo praticamente non ci muoviamo quindi non abbiamo dati sufficienti che possano confermare una trend di un certo tipo tale da poter motivare un movimento da una direzione all'altra e quindi questo conferma il fatto che non ci sono attualmente speranze che possano rientrare determinati quantitativi anche di stable coin tali da poter motivarne un certo flusso in ingresso o in uscita vediamo per quanto riguarda la stable coin in influsso vedete inflow exchange totale di stable coin di tutte le stable coin vedete che è praticamente bassissimo quindi non ci sono tali capitali si sta parlando addirittura di 433 milioni di dollari per tutti gli exchange in ingresso di stable coin perché se avete capito che se entrano in stable coin vuol dire che qualcuno vuole convertirla in cripto quindi sarebbe qualcosa in crescita per il market cap complessivo e in outflow ossia in flusso in uscita stiamo parlando di 569 milioni di dollari quindi anche un valore molto basso considerando queste informazioni possiamo sicuramente affermare che ci sono di certo delle problematiche per quanto riguarda bitcoin ha una possibilità di movimento di prezzo magari verso l'alto diciamo purtroppo che in questo momento ci troviamo a un valore di prezzo di 31.004 purtroppo il valore importante dei 32.008 che ho segnato io almeno dal grafico ma comunque è considerato il 32.000 come valore di range di intervallo di prezzo come valore di resistenza è un valore che io ho individuato in questo modo tramite l'aiuto anche del volume profile e soprattutto anche dal punto di vista grafico considerando candele a settimanali o candele addirittura mensili dove si può naturalmente riscontrare un valore di media di punto di controllo nell'intorno dei 32.000 ma in pratica questo valore che avevamo individuato in precedenza nei giorni precedenti in merito al time frame soprattutto così come lo vedete settimanale diciamo che è stato precedenza respinta adesso sembra riattaccare di nuovo con forza moderata perché i volumi e comunque la direzione d'età sono poche bassine non hanno una tale consistenza da motivare il raggiungimento o addirittura la rottura dei 32.000 ma in modo solido ecco questo voglio dire deve essere naturalmente un attacco da parte dei buyer a questo valore di resistenza dei 32.000 in modo solido fin tanto quindi che noi comunque giriamo nell'intorno di questo prezzo nulla può cambiare dal punto di vista macroeconomico dal punto di vista macroeoscopico diciamo che siamo sotto e ha dei valori più bassi settimanali che mensili pertanto l'outlook è ribassista e le probabilità sono a favore di una distribuzione più che accumulazione quindi traduco per chi non conosce i termini dell'analisi tecnica è più possibile una discesa dopo magari un ritracciamento fino a un certo valore poi boom di nuovo una ridiscesa che è il contrario per avere un po' di respiro dovremmo rompere la resistenza a 32.000 con un po' di conferme quindi per questo ho segnato 32.800 deve superarle anche di un po' di più e quindi per avere anche un minimo di tendenza a seguire praticamente il trend ribassista dovremmo comunque rompere i 36.000 o direi anche 37.000 o 38.000 se invece dovessimo andare giù e dovessimo rompere i 28.000 quindi praticamente sotto questa barriera o addirittura del punto di minimo del supporto che ho individuato nell'intorno dei 27.000 allora questo confermerebbe la distribuzione e innescherebbe una gamba ribassista con più probabilità di andare a finire verso i 20.000 che è poi la successiva zona dove c'è un minimo non dico tanto un minimo di ordine per andare naturalmente a visualizzare su trading view possiamo andare a vedere naturalmente com'è la distribuzione della bitcoin dominance che ha superato i 47.05 quindi praticamente a livello percentuale la dominance va continuamente in crescita e questo è ancora più pericoloso per le altcoin e quindi la gente si sposta dalla DeFi o da criptovalute di un certo tipo per andare ad abbracciare criptovalute un po' più seri vediamo se eravamo intorno al 18% per ecco 18.06 per la dominance di ethereum che quindi controlla un po' tutto andiamo a vedere la total market cap complessiva esclusa naturalmente bitcoin vedete che complessivamente siamo nell'intorno di valori abbastanza bassi stiamo parlando di 673 miliardi di dollari considerate che comunque ethereum ne prende più di 200 andiamo a vedere un attimo coin market cap quant'è l'attuale market cap di ethereum di 220 miliardi di dollari di sicuro stiamo parlando di 229 miliardi di dollari è abbastanza pochino diciamo che siamo all'orlo di un possibile collasso del prezzo se dovesse scendere al di sotto dei 200 miliardi se vogliamo andare a vedere direttamente iter contro il dollaro terra terter scusate non ne parlo neanche perché comunque è tutto concentrato ormai su come andrà bitcoin che quanto pare vogliono andarlo a demonizzare per comprarlo sempre a prezzi di ribasso, prezzi di sconto un po' tutti diciamo soprattutto gli istituzionali ma comunque sia dal punto di vista di iter vedete che è il grafico un po' meno accentuato anzi diciamo che tutta la zona del prezzo a partire dagli 800 dollari fino all'attuale 1.900 è praticamente un vuoto completo tale che se dovesse perdere i 200 miliardi il prezzo potrebbe andare direttamente in questa zona tra i 600 e i 140 dollari addirittura ci spostiamo perché il punto di controllo adesso è sceso a 160 dollari circa più o meno comunque nell'intorno siamo sempre tra i 600 e i 200 dollari che potrebbe raggiungere se ciò dovesse accadere ossia se i 200 miliardi di dollari di capitalizzazione dovessero collassare se scendiamo sotto la situazione potrebbe essere abbastanza pericolosa Cardano sarà a sesta posizione mantiene ancora un bel 12% di salita Solana 6% anche se l'11% nelle ultime 24 ore anche perché è riuscita a risolvere dei problemi tecnici di alcuni suoi bug diciamo che Solana ormai è conosciuta per i suoi continui problemi sembra quasi EOS dei tempi di qualche anno fa del 2017 in poi e chiude la decissima posizione Dogecoin con 0,08 centesimi a 11 miliardi di capitalizzazione bene ragazzi Bitcoin abbiamo visto la domina siamo sopra il 47% anche se comunque CoinMarketCap sembra non essere abbastanza attendibile perché dà un valore inferiore ai 47% qui siamo a valori un po' più bassini la market cap complessiva 1290 miliardi di capitalizzazione se andiamo a vedere la market cap complessiva del Bitcoin andiamo a vedere un po' come siamo messi questa è la market cap di Bitcoin stiamo facendo, no? volevo vedere quella complessiva la cerchiamo allora ragazzi total market cap stiamo parlando di sì 1271 miliardi siamo più o meno allineati qua dava un valore un po' più alto 1290 e quindi ragazzi questo è tutto siamo abbastanza fermi e quindi c'è poco da dire sul momento è solo un aggiornamento per farvi capire di nuovo quali potrebbero essere eventuali scenari che si stanno muovendo nell'aria l'aria purtroppo non è positiva e la situazione naturalmente degli indici di borsa stanno partendo di nuovo a ribasso come Nasdaq di nuovo giù a 2% Dow Jones di nuovo giù altri 1% invece il prezzo del dollaro l'indice del dollaro sta leggermente scendendo almeno a cannella giornaliera e invece per quanto riguarda lo standard 500 S&P 500 anche lui in leggera discesa dell'1% per quanto riguarda invece l'oro e il silver il silver sale dell'1% e il 57 invece l'oro stabile a 1851 oggi è abbastanza una candela abbastanza piacca un po' poco mossa diciamo così spero di esservi stato utile con questo aggiornamento ci aggiorniamo se avete necessità ragazzi fatemi domande tranquillamente su youtube e approfitto naturalmente per ringraziarvi dei vostri like e del supporto costante in tutti i video ciao grazie alla prossima